Con il fuoco non si scherza, non permettete che il verde diventi nero e bruciato. Proteggiamo la natura e non facciamoci trovare impreparati. Con l'estate e le alte temperature aumentano i rischi di incendio. Già la protezione civile in alcune regioni è in allerta preventiva. Date il vostro contributo. 1515 è il numero emergenza incendio boschi. Se vedete fumo o fiamme fate chiamare. Il tempismo può salvare la natura. Mi raccomando cari amici è importante dedicate più tempo alla natura anziché dedicarlo alle cose futili.